Tu hai qualche minuto per gli altri. Ben ritrovati i nostri telespettatori qui a Caritas Insieme, siamo nel Sigrid Hunset Club per parlare di avvento con il nostro Vescovo che ci ha fatto l'onore di essere con noi per tutte e quattro le domeniche di avvento a sostituire il Vangelo in casa che si è trasferito quindi dalla barca sul lago di Tiberia ed è qui nel nostro club. Anche per segnare un momento importante il nostro decimo anniversario di edizione di Caritas Insieme che da dieci anni fa tv e lo fa con il Vescovo e alcuni ospiti per affrontare queste domeniche di avvento con il Vangelo che di volta in volta la Chiesa ci propone. Siamo nell'anno A, i Vangeli quindi sono quello di Matteo che sarà protagonista delle domeniche ordinarie. In questa quarta domenica di avvento si parla dell'Emmanuele, cioè il Dio con noi, ma lascio la parola al nostro Vescovo che ci spiega un po' più da vicino di che cosa si tratta. Le quattro candele indicano che l'evento è vicino al compimento. L'Emmanuele, il Dio con noi sta per nascere ancora nel mistero del Natale che ce lo ripresenta. Per comprendere questo messaggio profetico di Isaia dovete concedermi un momento di tempo e di pazienza perché possa ricostruire l'ambiente storico in cui il profeta ha fatto questo annuncio al popolo, al re Acaz, siamo nell'VIII secolo, della venuta di un bambino prodigioso che è il segno del Dio con il suo popolo. Per comprendere questa situazione dobbiamo innanzitutto ricordare che nell'anno 932 la monarchia fondata dal re Saul e consolidata dai re David e Salomone si era spaccata in due tronconi, il regno del nord con capitale Samaria e quello del sud con capitale Gerusalemme. L'uno chiamato regno di Efraim, l'altro regno di Giuda. Solo nel regno di Giuda del sud continua a governare la dinastia di Davide benedetta da Yahweh. Un giorno a Gerusalemme, capitale del regno del sud, giunge notizia che l'esercito di Damasco degli Assiri e l'esercito del regno di Samaria si sono congiunti sulle montagne di Efraim e stanno marciando assieme, uniti, contro il piccolo regno di Giuda di cui è re Acaz. Di fronte a questo pericolo imminente, il cuore del re e il cuore del popolo tremarono, Isaia ha un'immagine bellissima, tremarono come tremano gli alberi della foresta agitati dal vento. Il profeta sa che Dio è in grado di salvare il suo popolo. Va incontro al re che stava facendo il giro dei bastioni per controllare le fortificazioni e lo invita a non avere paura, ma a confidare soltanto nel Signore. Per convincerlo ed indurlo a questo, il profeta lo assicura che Dio è anche disposto a dargli un segno. Abbiamo parlato tante volte dell'importanza dei segni, ma il re ha già deciso di chiedere protezione al governo a Siro e rifiuta il segno, adducendo ipocritamente una motivazione religiosa, dice non voglio tentare il Signore. La realtà invece è che il re non ha il coraggio di confidare unicamente nel Signore. Al segno di speranza annunciato dal profeta, preferisce l'alleanza politica con i sovrani invasori. E' in questo contesto che avviene l'annuncio dell'Emanuele. Di fronte all'incredulità del re, alle sue paure, al suo pessimismo, dapprima il rimprovero del profeta non vi basta stancare la pazienza degli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Poi la sorpresa, la parola di speranza, il segno promesso, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. Ecco l'annuncio storico fatto ad Accaz che diviene icona, simbolo, riferimento all'annuncio del Messia che nascerà da Maria. La meravigliosa realtà del Dio con noi, dell'Emmanuele, Dio che non si allontana dalla nostra incredulità ma la vince avvicinandosi, facendosi fratello degli uomini sfiduciati, pessimisti, delusi. Nonostante le forze del male sempre agguerrite, Dio non cessa di essere l'Emmanuele, il Dio con noi, segno di speranza nel nostro cammino, preparazione all'accoglienza della sua nascita nel giorno del Natale. Ha parlato dei segni nel Vangelo, il segno è molto importante. Per noi oggi cosa può essere un segno e come possiamo capire, interpretarli? Sono tutti quelli che abbiamo ripercorso in queste Domeniche d'Avvento. Sono segni queste quattro candele con la loro luce, con i loro riferimenti, con quello a cui fanno allusione. E' segno il deserto nel quale ci troviamo e nel quale risuona comunque la voce di Giovanni Battista che la Chiesa riattualizza, ripresenta, fa rivivere. Sono segni i nostri impegni per fare un esame di coscienza, riconoscere le ingiustizie, le strade da raddrizzare, le valli da colmare, quindi tutte quelle iniziative che in questo avvento abbiamo cercato di vivere noi, di far vivere ai nostri ragazzi impegnandoli in gesti che facciano riferimento. Facciamo questo perché il nostro tempo non è un tempo vuoto, non è solamente un tempo cronologico, non è solamente un tempo che passa, ma è Kairos, è un tempo salvato e quindi un tempo di grazia. Sono segni quelli che oltre alla parola nella celebrazione dei cristiani riattualizzano la presenza del Signore. Sono segni i nostri gesti di carità, sono tanti i segni, ma pensi nel Natale i segni dell'arte. Le nostre Chiese sono piene di questa scena della nascita dei pastori, dei magi o addirittura del Dio con noi come Pantocrator, come Emanuele, questi segni non possono non interrogarci, richiamarci, farci riflettere, farci chiedere perché ci sono, che cose esprimono, che cosa devono muovere in noi. I segni ci sono, siamo noi che non abbiamo tempo, capacità, intelligenza per leggerli, approfondirli e comprenderli. Beh, con questa settimana effettivamente risulta ancora più evidente il messaggio della prima settimana, che era quello appunto di cogliere il Kairos. Forse in questa settimana effettivamente si capisce il motivo di farlo, perché anche oggi c'è una guerra intorno alla Chiesa, una guerra magari non belligerata, non dichiarata, però di fatto c'è, contro i valori che la Chiesa cerca di difendere. Certo, vorrei dire che anche oggi c'è una guerra così più in generale nel mondo, c'è una guerra proprio là, nella stessa terra di Gesù, dove ci sono incomprensioni tra i popoli che la abitano, c'è una guerra vicino nel Medio Oriente. E qual è la nostra risposta? Quella solamente di affidarsi alle armi che provocano violenza, ritorsioni, stragi o quella di cercare altre vie di pacificazione, di perdono, di superamento, delle incomprensioni. L'Emmanuele, il Dio con noi, dice Paolo in un bellissimo passaggio delle sue lettere, è venuto ad abbattere i muri della divisione. In quella terra i muri stanno sorgendo, il Papa ha detto dobbiamo costruire ponti e non muri. Gesù e il Natale è il grande ponte tra il cielo e la terra, è un invito a noi ad abbattere i nostri muri di incomunicabilità, di divisione, a costruire ponti di incontro, di rispetto, di rispetto dell'identità di ciascuno. Non deve esserci prevaricazione, non deve esserci invadenza, deve esserci rispetto, riconoscimento dell'altro, dialogo intesa. Credo che il Natale ha veramente molto da dire e da dare proprio a questo mondo contrastato oggi come ai tempi di Akaz, dalle guerre, dalla violenza, dall'odio, perché si possano instaurare altre esperienze di perdono, di pace, di novità, di abbattimento dei muri. Noi costruiamo muri, ieri era il muro di Berlino, quello finalmente caduto o le cortine di ferro o di bambù. Dobbiamo costruire ponti, Gesù è il pontefice, il pontefice grande, massimo costruttore di ponti. Questo è uno dei messaggi del Natale, del riconoscere che Dio è con noi e che non dobbiamo tremare come tremano le foglie sugli alberi della foresta mossi dal vento. Allora, Isaia diceva che nascerà dalla vergine. Cosa vuol dire nascerà dalla vergine? Nascerà da una giovane donna, perché questo vergine vuol dire da una giovane donna nascerà il segno. Non ha un significato biofisiologico. Dal punto di vista storico, noi possiamo accertare questo messaggio che Isaia ci ha lasciato? Ma da un punto di vista storico, il segno del Dio con noi nato dalla giovane donna è Gesù di Nazareth. Questo lo comprendiamo, se lo comprendiamo in tutta la parabola della sua esistenza, per quello che ha detto, che ha fatto, che ha donato, dando la sua vita, finendo sulla croce ed essendo presente e risorto nella storia del mondo. Credo che lei lo sa, poi i Vangeli dell'infanzia vengono compresi nella loro interezza solamente attraverso i Vangeli della Passione e della Risurrezione. Sono stati scritti dopo l'annuncio della Passione e della Risurrezione. Quel bambino posto nella mangiatoia è fasciato dalle bende che richiama le bende del sepolcro di Gesù, quel coro di angeli attorno alla grotta che sono il richiamo degli angeli della Risurrezione. I primi cristiani hanno capito il mistero della nascita e del Dio con noi dopo aver capito il mistero della Passione, Morte e Risurrezione ed hanno scritto dell'infanzia dopo aver scritto della Passione, della Morte e della Risurrezione. E allora è solamente in questa visione di globalità che comprendiamo veramente cosa vuol dire Emanuele, il Dio che è con noi e come è con noi e come sia un segno che va oltre la profezia di Isaia ad Acatz. Una cosa che mi colpisce in questo testo di Isaia è che il segno è una persona, non è una cosa che succederà. Isaia non dice gli assiri saranno distrutti, saranno scacciati, dice vi darò un segno e nascerà un bambino. È una cosa molto particolare. La tua sottolineatura fa riflettere anche me. È vero, il segno non è una cosa, non è un evento, il segno è una persona. La salvezza è un rapporto personale, è un coinvolgimento personale, è una storia di relazioni tra persone, ma questo è, direi, la grandezza del nostro Dio che è un Dio unico nella tripersonalità, nelle relazioni personali del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questa è la grandezza del cristianesimo è l'unicità per cui, diciamo, il cristianesimo unico, il Dio, il figlio di Dio che si fa uomo, quindi è un rapporto personale che si instaura e quindi è un rapporto personale che ci interroga. Certo, la salvezza è una persona, lo scrivevo anche nella mia lettera pastorale, tu ci sei necessario Cristo, è Cristo che ci è necessario, non le altre cose, se non in riferimento a Lui e come segno di comunicazione e di comunione con Lui. Si conclude qui la nostra quarta puntata, il nostro percorso di avvento con il Vescovo, anche se avremo la gioia di riavere il nostro Vescovo la settimana prossima per festeggiare insieme il Natale, Natale che per noi vuol dire anche anniversario, decimo anniversario di questa trasmissione Caritas Insieme che in dieci anni ha percorso una bella strada e che insieme con il Vescovo in parte ripercorreremo. Buona settimana a tutti.